Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo! Ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepoppavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera c'è una sorpresa per te. Flavio Farroni è un ingegnere meccanico napoletano di 30 anni. Lavora con un assegno di ricerca presso l'Università Federico II e fa avanti e indietro tra Maranello, dove ha fatto un dottorato presso la Ferrari, e la città partenopea. Recentemente un'azienda che produce automobili per la Formula 1 gli ha offerto un lavoro in Inghilterra, ma lui lo ha rifiutato preferendo investire sul proprio paese. Secondo lei ha fatto bene o fatto male? Dare fiducia al proprio paese penso che sia sempre la cosa migliore quando si può. Sinceramente in questo periodo per i ragazzi quelle che sono le prospettive sono abbastanza limitate, quindi è chiaro che di fronte a un'offerta importante si possa anche mettere in considerazione la fuga dal proprio paese. Ha fatto bene perché ha dato fiducia, sicuramente io spero che sia poi ripagato in futuro per la scelta che ha fatto, ovviamente parlo anche per i miei figli. Lei che consiglierebbe in questo caso ai suoi figli? Sicuramente rimanere a casa, non ultimo perché sono la mamma. Mi auguro sì che il nostro paese possa offrire lavoro perché effettivamente se cominciamo ad abbandonarlo è chiaro che il nostro destino è già assegnato adesso. Secondo me ha fatto male per una questione di paga anche perché penso qua in Italia anche il contratto a tempo indeterminato non sempre lo è e tante volte, spesse volte ci sono dei contratti part time per poi magari buttare via il tempo che il tempo è denaro, quindi oltre al denaro è anche il tempo e quindi io avrei scelto di andare via dall'Italia. Come ho fatto del resto io dalla Sicilia sono venuto qui a Pavia, in provincia di Pavia. Massimo vuoi dire qualcosa tu? Secondo me sono d'accordo con lui perché comunque l'Italia offre quello che sta offrendo l'Italia è abbastanza poco rispetto alle prospettive che un giovane può avere e che dovrebbe avere soprattutto. Io avrei accettato comunque perché la crescita professionale per un giovane è tutto diciamo. Io avrei accettato. E quindi probabilmente è stato un po' più facile per lui dire di nuovo a questa offerta perché ne aveva già una. Diversamente secondo voi sarebbe andato di corsa? Certo che sì, niente per niente è meglio. Dipende dalla situazione di ognuno di noi, magari la situazione familiare è tutto, che ti porta a restare magari qua e rinunciare un po' alla carriera professionale. Voi qua adesso che vi siete comunque trasferiti come vi trovate? Trovate che la situazione è migliore? Sì, ovviamente dove c'è il lavoro si sta bene, se devi stare al tuo paese anche se ti piace di più, soprattutto per noi per una condizione climatica che qui un pochettino ci pesa, ovviamente stare giù e non avere un lavoro non significa nulla. E' complicato per me, penso che è importante lavorare in Inghilterra. Tu forse avresti accettato questo lavoro all'estero, avresti lasciato il tuo paese per andare a lavorare altrove? Sì, sì, è importante trovare un altro lavoro in nostro paese. Sei francese? Sì, sono francese, sono francese. E sei qua per lavoro? Sì, per lavoro, sì. Quindi anche tu hai deciso di trasferirti per cercare opportunità magari altrove, come ti trovi in Italia? Bene! Sì, sono francese, sono francese.